Dal 2022 si è avviato il progetto Fano con Ruggero Ruggeri, attore ideale del premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello. La seconda edizione si terrà dal 25 al 27 maggio e avrà un interesse sia sulla figura del più grande interprete italiano del Novecento, nato a Fano nel 1871, sia sulle proposte dei giovani attori e studenti fanesi, in quanto il progetto è caratterizzato da un'attenzione rivolta ai giovani, con l'intento di renderli partecipi in opere dove le contaminazioni e le interazioni artistiche, dichiara il curatore del progetto professor Massimo Pugliani, e le sperimentazioni con le nuove tecnologie possano esaltare l'innovazione apportata da Pirandello alla tradizione teatrale. Proprio in questa chiave di lettura di Pirandello, che ha dedicato le sue opere a Ruggero Ruggeri, a cominciare dai sei personaggi in circa d'autore, il programma alternerà momenti storici con grandi registi e attori, a eventi spettacolari con mostre e video artistici di giovani videomaker dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. Partecipa con una sua opera al meeting internazionale dal titolo Pirandello Schenè, in programma il 25 maggio l'attore Elio Germano. Un'opera che Pirandello scrisse appunto con l'idea di farla rappresentare Ruggeri, come i successivi sei personaggi in cerca d'autore, ma che il nostro Elio Germano ha potuto trovare attraverso un immaginario particolare, cioè l'uso dell'immersione. Cioè gli spettatori, i 150 che metteranno appunto un visore, potranno immergersi all'interno dello spettacolo e vedere con occhi diversi la psicologia dell'attore e trovare quell'interpretazione che Pirandello ha sempre cercato, cioè il mistero dell'anima, la presenza appunto dell'immaginario. Con questa iniziativa naturalmente si ribadisce il grande spazio ai giovani, perché i nostri sostenitori vogliono proprio che ci sia questa funzione del premio, che va a livello nazionale, ma trova nel locale la forza espressiva attraverso anche il teatro scuola dei giovani studenti del liceo artistico Nolfi-Apolloni, che appunto faranno ben due rappresentazioni proprio su temi pirandelliani. Fano Corruggeri è stato avviato con un tavolo di coordinamento istituzionale dalla Fondazione Carifano, BCC Fano, Comune di Fano, Fondazione Teatro della Fortuna, RTI Fano Rocca Malatestiana ed è considerato uno degli eventi caratterizzanti la vita culturale non solo della città ma a livello nazionale. Anche la Regione Marche sta predisponendo una legge triennale nel nome del grande attore fanese. Grazie.